buongiorno ragazzi e bentornate sul mio canale youtube oggi siamo a un po di idee regalo per lei tutte reperibili da uvs per il natale 2016 iniziamo da queste pochette nella versione rossa e blu che vedrete ora da 19 euro e 99 immancabile e in questa volta nella versione con il cuore rosso e con la scritta love la borsa dell'acqua calda da 12 euro e 99 in questa simile pelliccia molto carina per le più giovani queste patch da 4 euro e 99 che servono sostanzialmente per customizzare personalizzare i propri jeans questi mezzi guantini nella versione rossa o nera entrambi con il lurex da 4 euro e 99 altra idea sempre carine cappellini in questo caso nella versione grigio e bianca con pompon e al costo di 12 euro e 99 o questo tutto bianco in una bellissima lana un po più costoso da 19 euro e 99 altra possibilità sono questi ciarfoni io ve ne mostro solo uno per comodità questo rosso e bordeaux da 19 e 99 ma ovviamente ve ne sono tante varianti chiama il colore queste belle pochettine sciacca a 8 euro e 99 le grandi già pensando alla sera questo bauletto da 12 euro e 99 porta trucco porta gioia oppure questa pochette gioiello da 19 euro e 99 ragazze spero che questo video vi sia piaciuto se si fatemelo sapere perché ne vorrei fare degli altri lasciate un like non dimenticate di sottoscrivere il mio canale e di partecipare al mio giveaway il cui video è mostrato in questo momento a destra contiene tutte le istruzioni per partecipare ciao ragazze a presto